Ragazzi, benvenuti in questo primissimo video di Fortnite della nuova decade! Buon anno a tutti, buon 2020! Non vedo la ricerca della prima partita di questo nuovo anno perché faremo sicuramente una figuraccia. Mi raccomando, mi fido di voi, non c'è modo migliore di iniziare il nuovo anno se non utilizzando il codice creatore Stepney all'interno del negozio. Mi raccomando, fatelo tutti quanti. Spolliciate bene, non posso commentare e iscrivertela della campanellina. Io vi auguro una buona visione! Bene ragazzi, questa è prima partita di questo nuovo video della serie di Fortnite! Ebbene, sì, siamo nel nuovo anno, nella nuova decade! Come vi ho già detto, avete sentito in continuazione praticamente da tutti quanti! E siamo subito nel negozio col codice creatore Stepney! Compriamo immediatamente una delle nuovissime skin che si chiama Astra! e andremo anche ad utilizzarla quest'oggi! Guardate quante skin nuove che abbiamo in sospeso! Veramente tante! Cercherò di fare un video su ognuna nei prossimi giorni, piano piano, con calma! Bellissima con queste ali qua! Mi piace molto! Prima di iniziare a giocare, c'ho un regalino in sospeso nel nostro rifugio! Un po' di cosine ce le hanno già date! Vediamo un po', qual è che mi manca da aprire? Ma che caspita! Eh, sta roba! Tu guardi il fuoco e ti dà esperienza! Non ha senso! Vediamo un po' cosa ci sarà qua dentro, magari una mimetica per le aree! No! Nuove challenge del Winterfest! Tutto qua? Bene! Da 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 da! Na 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 na! Non trovo il regalo, raga! Se lo vedete voi, scrivetemelo nei commenti e andiamo a giocare! Oh, che bello! Con tutta la mappa innevata! Non ho ancora avuto modo di scoprire tutti i segreti di questi aggiornamenti, perché come potete ben immaginare, raga, ci sono state le vacanze, non siamo stati a casa, tutto regolare! Io nel dubbio direi che ce ne andiamo a Misty Meadows, anche solo per controllare se casa nostra è tutto ok, perché non si sa mai! Per esempio, qui a Milano si è allagato il bagno, magari nei prossimi giorni vi farò vedere il video, anzi, scrivetemi proprio nei commenti! Sì, Step, voglio vedere il video del bagno allagato, perché questa volta non è neanche colpa nostra! Questo personaggio con le ali congelate è veramente figo! Ok, ho creato una skin incredibile, un outfit d'eccellenza! Controlliamoci un po' intorno, non vedo nessuno nei paraggi, meraviglioso così, avremo tutto il tempo di ruta... Non è vero, c'è un'altra persona, la dobbiamo uccidere! Bello che ho trovato subito il fucile a pompa e la pozione a 50, che fortuna! 100 di scudo instant! Vi dico la verità, in questi giorni in cui non ho giocato, un po' mi è mancato Fortnite, quindi sono felice di ripartire con i video! Ma sbaglio o siamo in mezzo alla bufera? No, mi sa che non mi sbaglio! Tutto pieno di neve, nebbia ovunque! Sbaglio o ho sentito il rumore di una cassa con le spade laser? Ok! Adesso ci divertiamo! Prendiamo quella viola, dai! Quella di Jayden! Quanto è bello farmare e spaccare le cose con le spade laser! Mamma mia, aspettate! E già che ci sono, spacco completamente qua la torre dell'orologio! Direi di recuperare anche questo, che non si sa mai! Sono gli scudini! Oddio! Quanta roba è caduta! Ma cos'è? Ho sentito dei passi! Fermi tutti! Sotto di me! Ciao amico! Alla prossima! Io ho dato una mina a questo in tutte le gengive! Che poverino se la ricorderà per un bel po'! Sono rimaste solo 19 persone e io ne ho incontrata solo una! Ma cos'è? Ma perché? Sta tornando la bufera di neve! Molto bene! Io vado dall'altra parte però, eh! Con un po' di tenacia! Occhio alla roccia! Uh! Saltata in pieno! C'è un tipo qua! Oh cavolo! Velocissimo! Curati! Step! Siamo operativi nuovamente! Mannaggia! È arrivata un'altra persona, eh! Uno l'ho quasi ucciso! Ma non basta! Ho un'idea raga! Faccio cadere tutto! Bella lì! L'ho ucciso raga! Via! 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 È morto giusto nel momento preciso! Che bello! E abbiamo il suo pump adesso, eh! Voglio attivare un attimo questo falò e curarmi al volo! Veloce! 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 Saltella come un coliglietto! Saltella! 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 E siamo tornati anche nella zona sicura! Oh oh! Ciao amico! Tu lasci in pace me, io lascio in pace te! Siamo tutti felici e contenti! Appunto! Sopra! 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 Veloce! Oh cavolo! Veloce ste! No! 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 Che culo che mi ha trovato subito! Mannaggia la miseria! Ma mi ha laserato! È la prima partita dell'anno! Non puoi chiedere chissà quanto! Ok? Bene! Facciamone un'altra! Uh la la! Due nuovi dorsi skateboard! Ora sì che prima no! Altro giro, altra corsa! Tanto è fortemente ragazzi! Lo conosciamo bene! Ci sta di perdere un combattimento! Peccato che mi abbia completamente laserato! Mi avrò fatto tipo due headshot! Vabbè! Non importa! Ce ne andiamo a Lazy Lake stavolta! La R è subito al volo! Vabbè! Potevi anche ucciderlo eh! Mannaggia la miseria! Uh! Un regalino per Stepney! Qualcuno mi stava sparando! Ah! Pazzi! Oh! Oddio! No way! Due regali! Cosa? Non ho capito! Oh mio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Due pump! Due pump! Ho trovato due pump! What the hell! Il nuovo anno è promettente! C'è una spada laser o sbaglio? Ciao bello! Me la sono un po' rischiata lì eh! Ma sti cavoli! Voglio vedere se mi dai un'altra... Oh! Sì! Me l'ha dato! Tanto un altro pump leggendario! Cosa sta succedendo? Recuperiamo ciò di cui abbiamo bisogno! E poi riprendiamo la knock clean pistol! Bravo amico! Let's go baby! Fatemi sparare lo scudino! Oh si riparte! E vabbè ma che fortuna abbiamo oggi! Pozioni da 50 come se piovessero dal cielo! Ah è sopra di me! Ciao amico! Povero! Ho preso una briscola poveraccio! Non se ne è manco reso conto! C'è qualcuno raga! 60 danni gliel'abbiamo fatti! Gli sparano anche da laggiù! Lo hanno preso! Me l'hanno rubato tantissimo! Rubo tutta la sua roba! È un botto di roba tra l'altro! Aia! 33 anche io te li ho fatti eh! Me l'ho fatta a ricolpirmi! Chi è qua bello? Mo' sei sotto! Ok! Via 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 via! È il momento di scappare raga giuro! C'è sempre un momento in cui capisci che devi andartene via! E questo vi garantisco che è il momento! Ti ho detto raga che oggi abbiamo fortuna! Dovete credermi! Potrei provare a far cadere tutto! Vorrebbe essere molto pericoloso! Anche molto fruttuoso! Dai 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 che facciamo una bella kill! Dai! È caduto? È caduto? Sicuro? Non ha preso danno? What? L'unico modo per adesso è sgattaiolare in zona sicura! Magari qua sotto hanno costruito! Forse non mi conviene buttarmi di sotto! Fidarsi è bene raga ma non fidarsi è meglio! No way! No male! Lo sapevo! Avevano costruito sul serio! Non ci posso credere! Oh cavolo! What? Oh no! Oh no! No non è vero! Uno! È rimasto con uno di vita! Non ci voglio credere! Questo è il metodo migliore per iniziare al peggio l'anno di Fortnite! Com'è possibile che io sia ancora vivo? Sono andato in bagno e siamo 25 ancora in vita! Ok! Perfetto! È quello che ci piace! Ma mi dite le persone che rimangono con uno di vita! Quanto male devono volermi! Troppo! Tantissimo! Che fai? Mi dai anche un fucile a pompa? O mi lasci una situazione meschina e indecorosa? Fucile a pompa richiesto! Fucile a pompa trovato! Voglio vincere sta partita senza fare nudla! Nudla di nudla di nudla di nudla di nudla di nudla! Oh! Oh! Come bo! Come bo! Che volo! Che ve giro! Corri! Tiè! Boom! Spadatina giù l'albero! Spadatina giù l'albero! Ok! Ehi ma questo qua dentro sbaglio o è un lanciapannocchie? Vieni vieni! C'è anche uno slurpfish! Tre slurpfish! What? Serious man? Ehi la! Non la smettila buffoncello! What? Yes! Baby! Dobbiamo pedalare in zona sicura subito! Uh! Quante cose! Quante pozioni! C'è un tipo in cima che tra l'altro è in zona sicura! Beato lui! Distruggendo... Quello lui muore! Lui muore raga! Boom! Uh! Stava sparando a qualcuno che era da questo lato se non sbaglio! Mi ha fatto headshot! Cosa? Ti ho visto! Ti ho visto! Boom! E ora? E adesso? Arrivo a prenderti! Basta! Mi ha già sto fatto! Che cosa? No! È uno scherzo! Noi ragazzi sono senza parole! Non è possibile! Mi ha completamente ucciso in due colpi! No! Io faccio 30! E questo mi fa 75! Oh mio Dio! Potevo vincere! L'ho rovinata così! Facciamo l'ultima! L'ultima partita! Come va? Va! Ce ne andiamo a Retail Row! Corso commercio! Dei miei stivali! Perché sono atterrato così male? Mi cura o sono morti! No! La trappola che era fuori dal box! Non ci... Madonna! Madonna! Il buono proposito per questo 2020 è di non arrabbiarsi su Fortnite! Quindi diamoci da fare! Finiremo a Misty Meadows il video di oggi! Ho già capito che avrò bisogno di un po' di tempo per riscaldarmi! E per tornare con le super vittorie all'interno di Fortnite! Nel frattempo ci accontentiamo! Ci fermiamo esattamente su questa casa! Meraviglioso! Bravo! E vai sotto! Bravo! 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 Bravissimo! What? No! Mamma sei serio? Io apro la cassa e questo trova il pompa dietro di me! Quali erano i buoni propositi? Non ho capito! Ragazzi! Questo video di oggi termina qua! La prima vittoria del nuovo anno non si scorda mai! Il problema è che non siamo ancora riusciti a farla! Quindi non puoi scordare qualcosa che non hai ancora vissuto! Mi raccomando! Se il video vi è piaciuto spolliciate più non posso! Commentate e iscrivete e attivate la campanellina! Spero di avervi strappato un sorriso! Attivate anche il codice creatore step! Che è esattamente questo qua qua sotto! Tagatemi su Instagram! Io vi saluto! Noi ci vediamo nei prossimi giorni o in un prossimo video! Qua sempre tutto! Bye! Detto proprio bene! Non puoi scordare qualcosa che non hai vissuto! Uno di vita! Quello non lo scordi di sicuro! Cavolo! Che seas Exactly! Uno di tutti! Oh, 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 oh!